E a conclusione di questa puntata, il concerto che Emanuele Urso e la sua orchestra hanno tenuto alla Casa di Roma. Emanuele Urso, uno straordinario clarinettista e batterista 22enne, suona il clarinetto come Benny Goodman, la batteria come Jim Krupa, suo fratello Adriano suona il pianoforte come Teddy Wilson e il contrabbasso è suonato dal loro padre, Alessio Urso, uno dei padri del jazz romano. Guardatevi questo concerto, è una cosa elettrizzante! Emanuele Urso 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 Emanuele Urso